Allora oggi siamo a Quiliano, in Val Quazzola, non vi diciamo il posto preciso perché siamo in una proprietà privata, siamo entrati su autorizzazione dei proprietari quindi per logici motivi non vi diciamo il punto preciso. Siamo qui a farvi vedere quella che era una galleria scavata da contadini su indicazione di un rabdomante per cercare l'acqua. I rabdomanti erano quei signori che dicevano di poter trovare l'acqua col rametto sapete no? In questo caso era un rametto di nocciolo mi dicono, è poco profondo va avanti di due metri e in questo caso l'acqua non era stata trovata e niente voleva farvi vedere questa piccola chicca eccola qua avessi avuto gli scarponi c'entrano? No 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 Sì, 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 giusto, sì. Non è insomma, vabbè, ma va, 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 va. Grazie. Grazie.